Sui vostri schermi, nelle vostre vite, nelle vostre teste e nei vostri cuori. Qui a Reload facciamo di tutto perché si possa fare informazione dal basso. Sperimentare una tecnologia libera e accessibile. Scambiare sapori, scambiare saperi, combinare ingredienti della realtà. Ogni progetto viene cucinato con cura, con tutta la cura che tu ci metteresti. Non cucinarti nel tuo brodo, vieni a Reload. Reload, reality hack.